ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale e in un nuovo video che vi piace tanto unboxing di blind bag da bancarella tra l'altro sono quasi le ultime devo fare un super rifornimento però ultimamente hanno sempre le stesse cose e neanche tanto belline sinceramente purtroppo e quindi è un po' che non compro nulla queste sono ancora cose che quando vado al mercato e le trovo le prendo comunque tutte a un euro guardate qui c'è di nuovo il rischio ragazzi qua c'è di nuovo il rischio perché secondo me è di nuovo lui perché se vi ricordate sono due unboxing che faccio con questi Kokoro Baby e avevo detto che avrei cercato un altro codice però là ce ne saranno stati non lo so 3, 5, 20, 40 tutti uguali quindi o sono tutti uguali o tutti hanno quindi l'orsetto e basta oppure il codice non c'entra niente va a fortuna quindi ho preso a caso e speriamo la cosa che mi incuriosisce di più questa volta è questo barattolino che non mette mai bene a fuoco che si chiama what's inside smushy mushy eccoli qua forse è meglio vederli qua smushy surprise io penso siano degli squishy e ci sono numerose sorpresine c'è scritto che c'è uno smushy pet gli sticker una mini bottiglietta uno smushy battle che non so cosa voglia dire forse uno slime un tipo slime insomma name tag e mystery bestie quindi un amichetto questa ve la lascio per ultima quindi rimanete fino alla fine mi raccomando pensate che questa costava 9,99 euro con la rivista e io l'ho pagata solo un euro quindi veramente molto molto vantaggiosa sta cosa spero ci sia una checklist perché a me piace sempre vedere la checklist e poi abbiamo i cake pets i gattini aspettate gattini e non solo mi sa perché io dico sempre solo gattini ma c'è un po' di tutto cagnolini volpi eccetera che diventano cupcake questi sono veramente belli questi mi piacciono tanto purtroppo non sono facili da trovare e io ne ho due ma questa volta ve ne faccio vedere solo una l'altra me la tengo se poi la ritrovo li riprendo e io di questi già ne ho qualcuno se non sbaglio ho angel sicuramente ho angel mi sembra mi sembra di avere angel e coco non vorrei dire una cavolata adesso non le trovo perché se no ve le farei anche vedere queste venivano 2,90 prezzo abbastanza giusto per questa cosina adesso purtroppo visto che tutte le blind bag che trovo in edicola sono a 4,99 quindi per me un po' esagerato comunque bando le ciance allora sto guardando bene ma sì secondo me allora coco ce l'ho di sicuro questo qua me la ricordo bene e poi mi sembra di averne una giallina quindi probabilmente o angel non vorrei dire una cavolata ma mi sembra di sì oppure può essere anche un'altra edizione perché spesso succede che ci sono diverse edizioni e veramente sono carinissime guardate anche la carta adesso bando le ciance e vado ad aprirli che carina andiamo a girarla che cute cioè ragazzi ma quanto è carina ma quanto è carina adesso c'è solo un piccolo dilemma ovvero chi sei perché dalla checklist non lo capisco allora dobbiamo trovare uno scovolino giallo allora probabilmente è questa qua caramel perché c'è sia vedete quello scodellino verde che è giallo quindi probabilmente lei sì e lei perché ha il cornino caramel non so se è un lei o un lui però è troppo carina troppo troppo cioè mi piacciono un sacco sono bellissime sono fatte benissimo praticamente queste hanno questo cosino sotto che diventa un cupcake oppure una c'è anche il tulipano tipo oppure diventa appunto una gattina con il vestitino che carine veramente da collezionare tutte queste qua speriamo che le riprendano così anche io le ricomperò ora passiamo al cocoro ne vediamo perché mi viene un'angoscia con sto cocoro secondo me è di nuovo quello là però chi lo sa vediamo eh ragazzi il codice non mente è di nuovo lui purtroppo e adesso basta perché cioè ne ho due uno l'ho regalato però è di nuovo lui è di nuovo lui perché cavoli no questi non li ricompro più perché intanto abbiamo capito che non ci sono altro all'infuori di me ovvero di questo qua glitterato quindi direi che schippiamo e pace questo qui lo terrò non lo so lo metterò da qualche gruppo non lo so comunque basta questo qui mi ha stufato ok sono andata sul pezzo forte sbarella un po' la luce come sempre comunque si chiamano smushy mushy do that donut il mio è questo colore qua giallino e dietro c'è scritto milk smushy milk vanilla vediamo se profuma no per ora non profuma adesso andiamo a aprire cosa c'è sopra ci sono scritto smushy milk andiamolo ad aprire se riusciamo ok a svito quindi vediamo 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 oh ma quante robine qua dentro allora abbiamo la prima penso sia la smushy bottle momento asmr facciamo ed è questa mannaggia la luce cioè così perfetta metto le mie mani e rovinano tutto in pratica è una bottiglietta con dentro questo catenina tipo non capisco se rosa è rosa e fucsia sono due una rosa e una fucsia ed è la prima che c'è poi abbiamo abbiamo una robina morbidina piccola in questo sacchettino qua c'è scritto surprise bestie quindi questo è il migliore amico di quello che abbiamo trovato noi andiamo a tagliare vediamo chi è il migliore amico vediamo insieme hop oh ma oh poverino è super carino ma è un po' smoscicato perché giustamente chissà da quanto tempo è lì dentro allora se non dico una cavolata sembra tipo un budino con sopra il topper alla fragola aspettate che non mette più a fuoco ecco però è tutto poverino schiacciato male perché chissà da quanto tempo è che sono lì un po' messi in questa maniera poveretti comunque è carino anche lo squishy è super squishato vediamo oh scusate vi ho dato una botta oddio ma che cos' oh mamma ma che cos'è allora no il profumo allora vi faccio vedere pronti tata è una puzzola signori signori è una puzzola perché ha questa riga classica con sopra un cosino tipo di pasticceria è molto molto slow motion fatto molto bene come squishy qua addirittura ha il buchino che non è bucato ma si può bucare facilmente per metterci penso questo cordino e appiccicarlo dove vuoi appenderlo dove vuoi ci sono il name tag che name boh glielo dai tu il nome probabilmente carino e poi c'è ancora una checklist credo e gli adesivi allora l'adesivo è qua sotto praticamente solo uno è lui col suo migliore amico carino cioè è super carino per carità andiamo a vedere la checklist perché mi interessa molto raga sono uno più carino dell'altro guardate che roba noi abbiamo trovato lui scout stunk and candy candy apple poi c'era questo che tipo penso un topolino la mucca era bellissima secondo me questo direi che è un cagnolino credo quello non capisco non capisco che cos'è una scimmietta boh il koala la pecore insomma e il pulcino allora mi piaceva tantissimo lui sono contenta di averlo trovato la mucca mi piaceva tantissimo il topolino e anche lui l'agnellino insomma la pecorella dietro cosa c'è scritto boh c'è un giochino da fare ah c'è da fare il gioco questo qua quello sapete che si mettono le dita dentro e fai praticamente chi dovresti trovare insomma quel giochino lì a origami e niente lui è lo squiscino molto molto carino chissà che nome potremmo dargli boh qua non c'è il nome infatti c'è scritto daglielo tu praticamente scout stunk candy candy apple ah quindi questa è una mela ragazzi è una candy candy apple è una mela candita abbiamo capito non si capiva ma è poverina è messa male contenta di questo unboxing perché sono molto carini stai su e niente molto molto bellini questi amicetti amichetti scusate ma non so parlare oggi niente questo era l'unboxing di oggi carina anche questa idea qua degli moshi moshi se ne trovo altri li prendo anche di questi mi raccomando fatemi sempre sapere in un commento quale vi è piaciuta di più tutti e due a me sinceramente io amo loro mi piacciono tantissimo e poi se un giorno ritrovo tutte quante le cose delle collezioni uguali ve le faccio poi vedere in un video ma anche loro mi sono piaciuti i kokoro no perché purtroppo loro sono sempre fail purtroppo e come ho detto all'inizio non li prendo più perché hanno tutti questo codice mannaggia loro questo 69 cn21 tutti li ho proprio controllati ho detto no non li prendo vabbè ci vediamo al prossimo video ragazzi grazie di essere rimasti in mia compagnia un bel commento un bel like e noi ci vediamo al prossimo video come sempre ciao ciao